Che cosa Gris? La barra è pronta! È pronta? Voi accoggiudaci, voglio il caffè americano questo, eh! Guarda il caffè americano, guarda qui! Guarda, guarda il caffè americano che si bella a fuoco! Quando tu la mattina ti svegli, ti begli un caffè, ti questo è come se mi si bella un po' di acqua! Gianguido! Gianguido, delle fuori davanti non si può cominciare a pipì sull'ultima! Che strozzi! Allora, questo caffè è impossibile, neanche nell'ottocento! Dai, dai, buono! Yeah, ragazzi, vede questo caffè, guardate! Il caffè della Veronica! Ma è leggero! Se avete i problemi di caffè, ragazzi, se avete i problemi di cucina, la Veronica, ecco qui! Ecco la Veronica! Ti basta 35 minuti per due anni di pasta! E un caffè dove lo zucchero, un cucchiaino, equivale a un dito di zucchero, torginato, in mezzo all'acqua sporca delle foglie! Carola, la prossima volta ti hai dato il divorzio! Per fortuna, ti ho accompagnato questa cosa che costa 2.300 euro e ho dovuto andare a lavorare Gianguido e Pompeo! Basta! Allucinante! Buongiorno!